In Italia scompaiono ogni giorno 67 persone e le segnalazioni sono in aumento. Riccardo Porcu. Ogni volta una storia, migliaia di scomparsi, appelli sui social, foto, post, condivisi centinaia e centinaia di volte. Il resto, l'ansia, la paura e l'apprensione dei parenti si possono solo intuire. E i numeri non bastano a spiegarlo. In Italia ogni giorno arrivano 67 denunce di scomparsa. Una media in aumento, bambini, adolescenti, anziani, oltre 24.300 persone, il 26% in più rispetto al 2021. Tanti minorenni, 14.000 ai ragazzi tra i 15 e i 17 anni. Ne vengono ritrovati meno della metà, appena il 40%. In grande maggioranza, l'82%, si allontanano volontariamente. Di certo le tecnologie, le app per il tracciamento sui cellulari, i messaggi e le chat sempre attive possono dare un grande contributo nella ricerca dei più giovani. Ma non basterebbero senza il coinvolgimento delle forze dell'ordine. I ritrovamenti, infatti, avvengono entro la prima settimana. Per questo non bisogna mai perdere tempo e denunciare tutto velocemente. Chiamare immediatamente l'112, perché da quel momento possono essere attivate le ricerche. Quindi basta anche una semplice telefonata. C'è chi però non avrà nessuno a denunciare la sua scomparsa, come i minori non accompagnati. Migranti arrivati in Italia via mare o scappati dalla guerra. 70 ragazzi ucraini scomparsi, secondo i dati del Ministero. Il caso dei minori stranieri non accompagnati richiama l'attenzione e il dramma quotidiano degli arrivi incontrollati, ha detto il Ministro dell'Interno Piantedosi. Non basta emozionarsi quando si mettono sulla nave. Bisogna occuparsene quando arrivano.